Allora, Giacomo Petralito, sei tornato qui nella sede dell'Inter a fare che cosa? Una visita cordiale, come si fa, con tutti gli amici e con tutti i grandi blu. E com'è andata? Perfetto, per vedere le tante belle cose. Senti, ma di bala niente? Esatto, di bala non c'entra? Si è parlato di possibili affari con la Bundesliga, con la Germania. Faccio un saluto bene, Giacomo, dai, così ti salutiamo e ti lasciamo andare. Vabbè, non male, poi ci sia sempre, voi fate voce. Ma ci sono dei nomi in Germania che possono fare al caso dell'Inter? Facciate finire il campionato europeo. Ciao, buon lavoro, grazie.